Tragedia d'Ercolano, dove due giovani studenti incensurati sono stati uccisi la notte scorsa in via Marsiglia. Si tratta di Tullio Pagliaro, 27 anni, e Giuseppe Fusella, 26 anni, entrambi di Portici. Le salme sono state trasportate al Policlinico di Napoli per gli esami medico-legali. Secondo una prima ricostruzione, i due erano in un'autovettura quando sono stati raggiunti da diversi colpi d'arma da fuoco. La zona dove è avvenuto il fatto, intorno a Luna, è abbastanza lontana dal centro ed isolata. Sul caso indagano i carabinieri che hanno provveduto ad eseguire i primi rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Non si esclude che i due giovani fossero di ritorno da una partita di calcetto o dall'abitazione di alcuni amici e si sarebbero poi fermati a scambiare due chiacchiere in auto. Gli investigatori escludono l'ipotesi di un agguato di camorra. La pista più accreditata è che i due siano stati scambiati per ladri. A sparare, secondo quanto si è appreso, sarebbe stato il proprietario di un'abitazione alla periferia di Ercolano. L'uomo, pare vittima in passato di furti, ha esploso diversi colpi con una pistola detenuta legalmente. La sua posizione è adesso al baglio degli inquirenti. La nostra città, sono le parole del sindaco Ciro Buonaiuto, è sconvolta da quanto accaduto la scorsa notte a San Vito. Una tragedia che ha colpito profondamente la nostra comunità. Questo è il momento del silenzio. Gli inquirenti stanno accertando l'esatta dinamica dell'accaduto. Il mio pensiero, come sindaco e come padre, è per le famiglie colpite da questa immane tragedia.